dal primo al 3 maggio 2015 libera la mente viene a gaeta dove ti attende tango a gaeta nei prezzi della spiaggia di serapo in una cornice da incanto tre giorni full immersion tra mare natura e naturalmente la magia del tango con i maestri argentini lucas almechedas e iannina bassi e la strepitosa comunità di tangheri locali tango a gaeta dal primo al 3 maggio un evento che ti scuote riscalda il cuore con un weekend che prevede presso l'hotel serapo due pernottamenti correlative colazioni due cene e due milonghe quattro lezioni di tango valse milonga con lucas e iannina esibizioni e ancora accesso alla spiaggia privata attrezzata due risvegli yoga con la maestra raffaella corte e visite guidate nel parco regionale di monte orlando o nei tesori d'arte della città tutto a prezzi assolutamente anticrisi tango a gaeta il sogno lo spettacolo l'accoglienza il relax per un weekend da veri appassionati tango a gaeta dal primo al 3 maggio una produzione patricia e lino